ciao ragazzi ciao a tutte e a tutti nuovo video allora eccomi scusatemi dunque innanzitutto qui la luce perché è un po troppo come dire un po troppo alta per i miei gusti e io sembro gialla non fa il caso oddio quant'è quant'è alta questa luce non so se si capisce però dal video sembro troppo gialla ognò non mi piace questa cosa non capisco perché vabbè niente non c'è verso quindi ragazze come state voi spero bene io sto bene e dunque sono uscita stamattina una passeggiatina sono andata a fare comprare tra l'altro ho preso un smaltino perché uno mi si sta secando non ho capito bene se mi si sta seccando o se sto terminando forse lo sto terminando perché non ce n'è più l'ho quasi terminato il tutto quindi direi che è l'ora di comprarmi una nuova aspettate che lo faccio vedere un attimo allora per farvi capire di cosa parlo uno è questo qui anzi uno perché uno che l'ho terminato ed è questo qua della vitri non so il nome non capisco neanche che nome sia questo questo qua questo smalto appunto l'ho quasi terminato perché non ce n'è più si fa tutta una specie di colla di cosa strana di colla proprio di quelle non so se si è capito aspettate ve lo faccio vedere vedete quando lo vado ad aprire diventa tipo colla non so se si percepisce non ce n'è più quindi era ora di andare a comprare un altro perché anche quello di pupa per esempio quello di pupa fa la colla non so perché ma lo faccio vedere aspettate non c'è mai bisogno perché tanto avete capito che è colla quindi ho preso questo della ai non so come mai mai nace creatina plus co care e color vabbè questo qua l'ho preso in farmacia e dovrebbe essere buono anzi spero sia buono perché l'ho pagato appunto non potrebbe intuire 7 euro quindi non è malaccio anzi il prezzo è accessibilissimo è un pochettino caruccio però siccome mi serviva uno smalto non sapevo che smalto prendere ho preso questo qua ed è un bel rosso rosso bello strong bello forte non so se mettiamolo in diretta con voi o mettiamolo in diretta con voi voi che dite vabbè mi sa che me lo metto in un altro momento perché adesso non me la sento quindi farò un altro momento dai perché adesso preferisco parlare più con voi che ovviamente metterlo in diretta quindi un altro momento lo sento più con con più voglia lo metterò perché insomma la sento non lo so aspettate un secondo eccomi qui allora dunque innanzitutto sto concentrando a scrivermi le cose che mi servono qua per youtube ma anche per non youtube in questa argentina qua intanto mi devo anche scrivere che mi è arrivato il 15 in marchese non ho quella scritta non ho cosa sto aspettando quindi vediamo se questa penna qua scrive non è neanche detto ma ci voglio provare a vedere se scrive qualcosa vediamo un po' allora intanto vediamo un po' perché non volevi scrivere niente non scrive una mazza proviamo con un altro sì l'altro lo scrive ok me l'ho scritto poi scusate se non mi faccio vedere cosa sto scrivendo ma eccolo qua vedete non so se si intuisce se si vede spero di sì poi ho già speso 36 euro e 99 centesimi sì allora 36 euro virgola 99 centesimi vedete un po' tanto lo so ragazzi ma era perché ho preso un deodorante un collidio e più uno smalto quindi sono tantissimi soldi lo so non so altro cosa ho preso non mi ricordo comunque ho speso intorno alle 36 euro e poi poi che altro allora un deodorante un deo deodorante e altro che cosa ah collirio collirio a posto niente null'altro ho speso perché altre cose ho chiesto delle informazioni ma è inutile che ve lo sto a dire perchè tanto non credo che vi interessino quindi neanche ve li riferisco e poi nulla allora deodorante collirio e e basta smaltino null'altro uno smaltino rosso aggiungo addirittura il resto può bastare di oggi quindi oggi cosa ho in mente di fare null'altro ah intanto ho usato nel solito bagno schiume se non so sapete quello ambria e camilia molto buono mi piace strano da matti sta buonissimo e poi ho usato il mio soldo elvive l'oreal quello del quello shampoo non le shampoo questo è di balsamo balsamo della elvive di l'oreal molto buono per farmi i capelli ricci come le vabbè ce l'ho già ricci di natura perchè mi sono afro però ho dato una bella scelatura a mio piacimento a mio piacere si può dire non so se l'ho detto bene però è così e poi prima di dopo aver tamponato come si chiama con l'ascigo a mano io ho passato questo olio che ho fatto vedere un sacco di volte anche nei video haul dei saponi profumi ho utilizzato questo olio qui dell'elvive olio straordinario su brim vabbè del colore che poi il colore non mi interessa perchè non mi coloro i capelli comunque per dirvi semplicemente che questo olio è molto buono e protegge i capelli da fonte di calore e confermo che è così quindi mi piace non mi rovina il capello quindi top allora ce n'è 100 ml di prodotto come ho appena detto all'inizio di questo video no degli altri video che dico sempre vabbè comunque 100 mesi no che sto dicendo 18 mesi di scadenza oggi sto un po' stravolando perchè così ragazzi sono un po' stanchina però capitemi insomma cercate di capire che sono un po' stanca però mi andavo di fare questo video lo stesso ah con profumi ho messo questo aspettate che ve lo faccio vedere con profumi ho messo questo qua della bombom malizia che si ricorda questi profumi così io si sono bellissimi li adoro sono troppo belli e hanno una profumazione che ve lo dico a fa' fantastica allora questo qua è primo bacio e del toilette buonissimo top e come per per enfatizzare ancora più profumo della doccia ho utilizzato oltre a questo qui questo ho utilizzato anche l'altro bombom malizia pink green di boh non so come si dicono vabbè leggetelo voi perché non voglio fare figure di M comunque questo qua è un deodorante che quando lo spruzzo ha una profumazione wow proprio sa di deo proprio deo deo deodorante vero e proprio allora siccome che io voglio mettere troppo di questo come si può dire che non ce n'è quasi più ma io ce lo metto lo stesso perché mi sta finendo ma non ce ne sta più che strano boh buono ve l'ho messo un po' nelle braccia perché non so dove metterlo perché non le scende più non so se capite dove sono arrivata vedete non ce ne sta più poi uno l'ho comprato un giorno al sapone profumi e vuole la sfortuna che l'ho perso per strada chissà come ho fatto e non l'ho ritrovata nella borsa degli acquisti quindi che sbarata che sono io potevo chiudere la borsa degli acquisti e l'ho perso per strada brava che figura del cavolo che fai tutte le volte quando vai a fare acquisti non perché voglio fare la figura e farvelo vedere a voi su youtube ma no per avere un acquisto che mi piaceva tanto col profumo acqua di profumate no questo è che profumo è tanto per farvi capire che profumo è i biscoi carcate la mia fragranza olfattiva preferita dei tesori d'oriente capite bene quanto è buona questa fragranza io va che lo vado a perdere vabbè nel comment lasciamo perdere che meglio aspettate che vi dico chiore sono sono le mezzogiorno e tredici ai 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 già vabbè tanto se ancora non devo pranzare vabbè tra un po' pranzo e niente quindi che dirvi penso che vi sia piaciuto questo video chiore non lo dico all'inizio ma lo dico alla fine anche se fate come se l'avessi detto come l'ho chiamato fate come se l'avessi detto all'inizio antecipate un bel like di supporto un commentino e perché no iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i possibili video aggiornamento sul mio canale youtube quindi nulla ragazzi se guardo che sono perché anzi è veloce guardato con la sembrale di guardare sempre che ne sono vabbè è un profumo stupendo veramente ho ragione io che è profumatissimo è buonissimo questo è profumatissimo non si può sentire però vabbè e niente quindi non lo so ragazze io penso che questi video che ci piacciono a tutti perché ho sentito dire su youtube che i chiacchiericci piacciono da matti e quindi continuerò a farli finché riesco a farli proverò a farli sempre e niente tanto per dirgli a voi chiama e vive chiacchierai piacciono davanti anche quando mi trucco è bello mi rilassa truccarmi solo che oggi sono già truccata io a parte le occhiaie a panda che ho ma me ne frego me ne strafrego perché tanto non mi dispiace neanche rimanere così ho solo fatto un filino di sopracciglia e messo la pena di mascara non dico per lo sguardo perché non basta dove mettere un po' di correttore ma sì chi se ne frega ma almeno un po' di mascara me l'ho messo un filino un filino di mascara va bene ed è questa mascara qui sempre questo qua che non ho ancora avuto modo di cestinare perché ci sto accelando tanto non lo compro più perché ho ancora altri da aprire quindi chissà quando andrò a riaprire altri mascara cioè perché non ho una miri di mascara voi direte ecco come si fa con tutti quei mascara ci faccio che appena termino questo amore di mascara perché perché dici così perché è un amore questo mascara mi è piaciuto è strappiaciuto quindi appena finisco questo ben di dio di mascara che non si può sentire così andrò a cestinarlo e poi andrò a aprire un altro al momento questo lo voglio finire fino all'ultima gocciolina ovviamente come giusto che sia questo di che cos'è vi dicevo che si sto facendo troppi cili parole questo è il mascara della Rimmel black 001 è un mascara nero 001 ovviamente sembra che si diceva 001 no assolutamente comunque questo è quanto si veramente sembra di dire 007 cioè comunque Rimmel e i scandalize Rolled vabbè quello è quanto Worsuprof Worsuprof mica tanto però io lo metto maschera maschera vabbè basta sto zitta non dico più niente avete capito che è maschera che mi ha dato la gioia e anche questo poi di cosa vi parlo altri tipi di trucchi che mi piacciono in estremis e in primis oltre la mascara è questa bronzer della Rimmel questa Rimmel mi è piaciuta tantissimo mi sta piacendo perché quando vado a fare il colorito del mio del mio viso mi dà un accenno di 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 colore appunto al viso e me lo fa sentire meno smortizio se si può dire così sì meno morta meno pallida se si può dire perché sì io già sono pallida di mio se no metto un po' di colore con questa terra sono sono mi sento sfigata non so perché poi appena ho parlato di altri trucchi che mi piacciono a morire sto continuando ad utilizzare come se non ci fosse un domani voi direte perché perché io sono un amante aspettate un attimo degli illuminanti questo illuminante è della Makeup Revolution e wow voi direte come oggi non sei truccata però ci stai dimostrando questo eh sì ragazze adoro gli illuminanti della Makeup Revolution vedete noi ci vedono dallo spazio sembra che ci vedono proprio dallo spazio vabbè comunque per dirvi a voi di quanto è bello questo illuminante è veramente top già questo è Highlight Rolled io lo leggo così perché mi viene di leggerlo così perché io sono italo-americana però sappiate bene che mi piace molto leggerlo con la mia giusta pronuncia Highlight Highlight come volete dirlo voi comunque questo è quello questo è quello che sto dicendo io vedete già e nulla è questa non ve lo sboccio perché tanti saranno miei ai e ai sbocce su vabbè ve lo sboccio un attimo però dove mi pulisco no no dove pulirmi muy bien fantastico vabbè vedete che colore che brillantezza che è bellissimo mi piace ma allora ora mi pesco qua perché non so ben dove pulirmi quindi fantastico sono dovuta pulire già sono un foglietto vabbè non importa poi come fissante verso persiglia c'ho quello della Douglas perché non si pronuncia Douglas ve lo ripeto per l'ennesima volta molti mi dicono come si pronuncia Douglas o Douglas no 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 si pronuncia Douglas l'ho sentito anche da altri youtuber non italiani ma bensì americani e lo dicono loro con la sua stessa identica pronuncia quella mia Douglas si pronuncia va bene ok ok questo è Douglas ed è un fissante per sopracciglia insomma più che fissare colorare le sopracciglia per chi ce l'ha già colte e pelle lineari pelle belle questo è solo per colorare chi le vuole fissare diciamo che questa è pelle bionde non bionde scusate more quindi questo qua io lo uso non più che altro per fissare ma per colorare quello per fissare non un altro ma non mi ricordo dove l'ho messo perché l'abbia messo non lo so vabbè comunque questo qui aspetta che metto questa pappa come la tua un'altra parte ok allora questo qui è una matita aiuto mi sta pagatendo questa matita qui l'ho usata per farmi le sopracciglia per darle una domata insomma per ridisegnarle ragazze perché questo muzzicone qua finché non ce n'è più finché non lo termino esattamente come si deve io lo uso fino all'estremo perché raga non voglio buttarlo voglio usarlo finché poi non so più dove metterlo quindi lo cestinerò in qualche modo prima lo uso meglio è poi ho un'altra matita che ce l'ho qua dentro se non ci credete ve la faccio vedere eccola qua vedete questa è della Douglas lo stesso oppure no no sbagliato l'oreal l'oreal non so che numero sia vabbè non importa comunque questa matita qui è una con una dalla parte dall'altra parte con con il pettinino e dall'altra con la matitina quindi top mi piace non so se avrà la mina o se avrà la matita quello come sarà sarà io la userò e nulla ah ogni tanto utilizzo PS 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 utilizzo questa Opulence di Zoeva perché mi sta piacendo davvero da matti troppo bella e fantastica e ha dei colori pazzeschi non so quante volte lo ripeterò ma è la la realtà ed è vero quindi vedete qual è il tuo colore preferito che ogni tanto come si può dire ogni tanto mi fisso o il blu ops ho dato un'unghiata che brava che sono allora tra il blu o questo oppure questi due questi due qua o anche questo vabbè sono tutti belli solo che mi piace più questo qua questo blu e questo qua marroncino un marroncino come si può dire cioccolato sì io non dico cioccolato perché c'è quello di quello però è la verità lo dico o color caffè non saprei comunque non sono brava a descrivervi i colori però ci provo in ogni modo per farvi capire pochi tipi di colori adoro mettermi sugli urchi poi poi quell'illuminante che ho messo non quello illuminante make up questo parlavo dove ho dato le unghiate questo ops stavo cadendomi questo qua e questo top mi piace ma quelli che metto di più sono questi qua che c'è anche il bucozzo vedete questo è troppo bello mi piace amati straordinario guardate e mentre una volta in passato per utilizzare il fissaggio del trucco utilizzavo oddio mi sta cadendo tutto facciamo perdere questa acqua qua della venne un termale avenne acqua termale appunto questa è della venne si non so quante volte l'ho ripetuto però questa è la boccetta che allora quando la pagai all'epoca costava 8 euro 8 euro precisi molto buona il getto non è oddio mi sta facendo cadere tutto allora il getto non è male non è non è invasivo e quando lo spruzzo è top mi piace allora per adesso non la vado a comprare perché ho già speso una miri di soldi stamattina ma quando mi servirà d'estate la ricompro perché è veramente fenomenale non ce n'è come quest'acqua è veramente meravigliosa quindi sia per quando mi vado a lenire per il trucco che quando voglio togliere un po' di rossolo dal viso mi spruzzo questa e sono a posto perché io quest'estate fate conto che sono andata al mare tre o quattro volte e quindi mi sono un po' stenata mi ho passato un po' di quest'acqua termale e mi è passata e mi è passata quindi mi stavo dicendo su adesso è interrotta allora mi è passata praticamente il rossore del 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 viso perché mi ero rossata un po' troppo qua sopra sulla zona T e sulla zona mento e anche vabbè insomma in ogni dove del viso che vi devo dire quindi ho fatto mi sono tutta spruzzata e è stata una manna dal cielo ragazza non so che dirvi era veramente top quest'acqua ce n'è ancora però perché riesco a utilizzarla quando proprio sto male con gli occhi o che ne so quando non so come dirvelo quando ho proprio bisogno di una sperzata di di benessere diciamo ecco qua non so come dire di benessere niente ragazze adesso è tutto io adesso vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazze a presto allora io qua adesso metto tutto a posto perché ragazze veramente qua c'è il delirio c'è un macello e quindi nulla che ne dite ci salutiamo intanto vediamo un po' che ne sono mezzogiorno e 27 ai 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 va bene adesso andrò a montare questo video e nel frattempo noi ci si vede nel prossimo appuntamento su youtube ciao un bacio mettete like punto commentate e seguitemi su dove volete voi tiktok instagram e se vi vanno perché no sulla mia pagina facebook perché di tanto in tanto quando mi gira a me pubblico qualcosa ok ciao ciao